ciao belle donne ciao 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 a tutte tutto bene ragazze benissimo bene bene avete passato una bella giornata al lavoro oggi stasera abbiamo una ricetta velocissima e super gustosa da come al solito sempre allora questo è uno spaghetto è keto quindi non utilizzeremo la pasta ma utilizzeremo una verdura in particolare la zucchina per fare uno spaghettino al salmone quindi molto indicato anche in questo periodo invernale ok quindi gli ingredienti ve li do sono due zucchine e 100 grammi di salmone selvaggio quindi quello nelle bustine praticamente 50 grammi di panna acida e poi deve essere fatta una citronette con il limone l'olio d'oliva e sale e pepe quindi ci vuole un limone e 80 100 grammi di olio di oliva ok quindi iniziamo preparando la citronette quindi mettiamo dentro a un vocale il limone l'olio il sale e pepe e quindi l'ha già fatto curatela l'ha già fatto io l'ho già fatta anch'io la sto muovendo un po per fare scena ragazze intanto provate a sentire se il gusto vi piace sentite un po se mettiamo se c'è dalle carni buona sale pepe tutto giusto l'avete già messo tutto e con lo spretto del limone ok stasera la devo dare a lucca e quindi impegniamoci allora ragazze non abbiamo detto una cosa importante che per fare lo spaghetto serve un attrezzo di cucina che magari non tutti l'hanno comunque è lo spiralizzatore che serve proprio a tagliare lo zucchino in maniera che ecco la nostra amica che è attrezzatissima ok perfetto questa è quella della Joe che serve per fare esatto l'effetto zucchina quindi zucchina spaghetto scusate quindi ok l'avete già preparati voi ragazze che eravate già attrezzate quindi una volta che avete fatto questi che avete questa bella ciotola con dentro i vostri posso vantarmi per una volta che faccio le cose fatte bene grande Laura quindi la Laura oggi ne mangia delle zucchine e degli spaghetti meno male che non sono non sono di grano e quindi ne puoi mangiare quante vuoi che ti fanno benissimo Laura ok quindi allora mescoliamo e mettiamo la citronetta sopra alle vostre zucchine ok e mescolate delicatamente in modo che non si rompano perché altrimenti se andate più pesanti insomma la zucchina è abbastanza delicata userò tutta la mia delicatezza ecco perfetto si ok questo è un piatto bilanciato è cheto come abbiamo detto è sicuramente è ricco di fibre di potassio quella Giovanna che esperta in alimenti ci potrà anche lei dare conferma sì il salmone omega 3 a go go grassi buoni esatto alla fine esatto ok allora adesso quando le avete un po' amalgavate adesso avete già preparato anche il salmone tagliato a straccetti sì perfetto aggiungete anche quello esatto tutto lo mettete magari se volete tenerne se avete da fare magari due porzioni non volete tenere un pochino da mettere sopra ma comunque ok Susi tu li fai anche per per Robby non so la Gio quante ne abbia fatte perché sono per tutto il reggimento esatto io dovrei stare qua un giorno a tagliare un pochino lo farò sentire a Luca è lui che sperimenta stasera ok perfetto quando ok come sta avvenendo si è leggete io poi perfetto le impiattate e poi se non l'avete già se eravate se l'avate già spostata altrimenti le impiattate e per concludere sopra un po' di panna acida che serve proprio come come ultimo condimento per dare un ulteriore giusto eh sì è tanta roba buonissimo sì ma che bello è anche bello da vedere dopo ci faccio una foto breva quindi avete visto che alla fine è una è un piatto bilanciato che si può fare è un piatto sia estivo che invernale per cogliere la zucchina poi cioè voglio dire fondamentalmente si trova è bello sembrano proprio gli spaghetti ragazzi guarda la lauri che spettacolo di piatto che ci ha fatto oggi guarda qua non si vede eh sì bellissimo bellissimo vai di panna faccio una foto subito no capa grazie io ho la cena fatta stasera perfetto molto bene mi fa piacere ragazze questa sera che avevamo poco tempo e siamo ritornate tutte un po' tardi dal lavoro vedi a volte tac basta poco perfetto da Dio troppo bello ok ciao ragazze ciao a tutti ah no siamidi di questo, ciao ciao ciao